Benvenuti nello spazio Europe Direct, lo spazio gestito dalla Commissione Europea attraverso le sue antenne Europe Direct, in questo caso la Europe Direct Calabria-Europa della Regione Calabria, con sede al Palazzo Amaduri di Gioiosa Ionica. Uno spazio dedicato agli approfondimenti sull'Europa e sulle politiche dell'Unione Europea a favore soprattutto dei cittadini. Cominciamo con la gestione dell'anno europeo 2010, ogni anno delle politiche comunitarie viene dedicato a un tema particolarmente caro all'Unione Europea, questo anno è stato dedicato dall'Unione Europea ad un tema caro a queste politiche europee, che sono quelle in questo caso della lotta alla povertà e all'inclusione sociale. E' un programma dove viene investita una somma considerevole per operare un'omogenea condivisione a livello dei 27 Stati membri sui diritti fondamentali in generale e sulle tematiche annuali. Lo scorso 16 ottobre del 2008 avvenne alla vigilia della giornata internazionale della lotta alla povertà a Marsiglia una riunione tra i ministri dei diversi paesi dell'Unione Europea, gli uniti sia in Francia appunto a Marsiglia, in un incontro dedicato alla lotta alla povertà. Da qui nacque la decisione di dedicare l'anno 2010 a questa tematica con un investimento che è stato dotato di finanziamento con una somma di 26 milioni di Euro, di cui 17 milioni costituiti da finanziamenti dell'Unione Europea, finanziamenti diretti. La decisione relativa all'anno 2010 è stata ufficialmente adottata dal Consiglio all'inizio del mese di ottobre del 2009. In questo caso si parla quindi di una dedica dell'anno 2010 all'inclusione sociale. L'avvio dei preparativi in tutta Europa è partita fin dall'inizio dello stesso anno, appunto di quest'anno del 2010 e ha assegnato l'avvio di preparativi in tutta Europa. Le ONG, le autorità locali e tutti coloro che sono attivi nella lotta contro l'esclusione sociale sono invitati a partecipare alla campagna per tutta la parte restante del 2010. Adesso passiamo ad un'altra notizia che lega i cittadini europei a quella che è la nostra forma di informazione. Legata in questo caso al nostro spazio Europe Direct che è dedicato in coda al TG News di Telemia, redazione di quest'emittente che dedica sempre molto spazio e molta attenzione alle politiche europee e a quanto le politiche europee possono fare per i cittadini. In questo caso c'è anche, attraverso questa notizia, diamo informazione di un nuovo sito, un sito internet che lega il cittadino a una presa diretta delle informazioni, sia di connotazione europea che anche internazionale. Naturalmente per internazionale si intende comunque sempre nell'alveo dei 27 Paesi membri. La Commissione europea quindi è un consorzio coordinato dal Curriere internazionale con la partecipazione di Internazionale per l'Italia, Forum Politica in Polonia, il Curriere internazionale in Portogallo e con il sostegno del Café Babel, hanno dato vita a presseurope.eu, il primo sito multilingue con articoli di stampa quotidiani che danno informazioni su come si stanno evolvendo non solo le politiche europee ma anche i fatti dell'Unione europea, quindi legato alle istituzioni comunitarie. Mago Vastrom, già vicepresidente della Commissione europea e commissaria responsabile della comunicazione, aveva dato avvio, ha lanciato appunto con Euranet, avvenuto a questo lancio nel 2008, ed EUTV.net, prevista per appunto il corso del 2010, una serie di informazioni che sono legate sia da un punto di vista della carta stampata che dell'etere. Press Europe proporrà le traduzioni nel maggior numero di lingue di una selezione di articoli dedicati all'attualità europea pubblicati il giorno stesso oppure il giorno precedente. Gli articoli saranno arricchiti da analisi, commenti e immagini. Press Europe.eu mette a disposizione del pubblico anche articoli di stampa europea selezionati secondo i criteri delle maggiori informazioni di rilievo comunitario. Con questa notizia abbiamo così terminato l'edizione di oggi dello spazio Europe Diet. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre in calce al TG News di Telemia e ringraziamo sia l'editrice Telemia che la Commissione europea che finanzia queste informazioni tra il cittadino e l'Unione europea. Grazie.